E qui è davvero una sfida anche per i nostri telespettatori di uscire a capire che questa era un'auto, una vettura, non è da poco. È così? Ci troviamo di fronte a quello che ad oggi è la seconda vettura più vecchia d'Italia, costruita da Enrico Trinci di Pistoia nel 1879. Più vecchia di questo, di ogni giorno c'è la carrozza di Bordino che è preservata presso il Museo dell'Automobile di Torino. E questo mezzo qua era composto da una motrice che è quello che vediamo qua in fiera e posteriormente c'era una carrozza per portare due persone della tipologia Duc de Dam, che era una carrozza molto compatta e facile da spostare e da attaccare al mezzo. Quindi sostanzialmente questa era un'auto a vapore? Un'auto a vapore, proprio così. Direi da quello che ho fatto le ricerche dovrebbe essere una delle prime tipologie di carrozze da poter guidare con una sua persona. Nel senso, fino agli anni 50-60-800 la maggior parte delle macchine a vapore o carrozze erano guidate da due persone. Il fuochista che era quello che stava a far legna o carbone alla caldaia e il macchinista che era quello che invece guidava tutti i vari comandi e guidava anche il mezzo. Mentre questa qua era già stata studiata in modo tale che una sola persona potesse guidarla e anche controllare quello che era la caldaia per poter andare avanti. E com'è arrivata a lei? Diciamo per fortuna perché nel 2013 avevo visto un piccolo annuncio di questa macchina in vendita e mi aveva incuriosito la forma e la tipologia e poi io ho passato delle macchine a vapore. Quindi come l'ho visto andiamo a vedere cos'è, anche se era fatta da un fabbro o da qualcuno mi sarebbe piaciuto averla nella collezione. E poi quando stato a vederla mi sono accorto che non era stata fatta da un fabbro ma era veramente costruita da una ditta e che aveva pensato di poi venderla in serie. Infatti è molto ben fatta sia nelle fusioni che nel telaio, quindi non era una cosa fatta dall'oggi al domani. E a quanto poteva arrivare come velocità quest'auto? Abbiamo un'idea? Allora dai documenti storici che mi sono stati consegnati col mezzo, dalle lettere che si interscambiavano, il vecchio collezionista con il proprietario originale dovrebbe essere intorno ai 16-20 km all'ora. Però tra un mesetto ve lo dirò, proverò a guidarla per la prima volta dopo quasi 50 anni e vedremo a che velocità potremmo arrivare.